Questa chest press è della Natilus, andremo a lavorare con la presa classica, anche se questa è molto bella, sicuramente me la inserisco venerdì perché va più a lavorare sui fasci esterni addominali, quindi sulla componente più bassa del petto, però siccome oggi il focus è più ingentrato sui fasci cavicolari, diciamo così, rispetto a quello che può essere il lavoro venerdì, utilizzo questa presa qua oggi. Questa macchina non è convergente verso l'interno, ma fa un movimento ad onda, cioè fa questo movimento qua e ti permette una contrazione particolare rispetto a quella della Gimileco che è molto convergente e garantisce uno squeeze sulla parte finale, che andrò a fare sicuramente dopo. Cosa andrò a fare qua? Allora, faremo qualche feeder set, andrò a fare un solo top set da 6-8 colpi, quindi sembra abbastanza pesante, da lì scaricherò circa il 20-25% del carico per tenermi sulle 8-10 ripetizioni, sempre abbastanza controllate e andrò a fare un cluster 45-30-15-5. A quel punto scalerò circa un 30-35% del carico dove mi dovrò mantenere dalle 12-15 ripetizioni e andrò a fare lo stesso cluster. Quindi andrò a lavorare comunque con la stessa tecnica ma con intensità diversa. Quindi sicuramente quando andrò a lavorare sulle 8-10 mi usciranno man mano meno ripetizioni, ma sono tutte effective reps. Quando andrò a lavorare chiaramente con serie più lunghe, ok? Quindi andrò a fare il doppio back-off, sicuramente ci sarà molto più pompaggio perché chiaramente usciranno più ripetizioni, ok? Sull'ultimo però, quello che mi piace fare sull'ultimo cluster, quando vado a fare l'ultimo set, mi piace scalare il carico del 40% e fare ancora un'isometria in mezzo. O con la macchina o magari con una macchina, un compound che va a ricercare tanto tanto isolamento. Quindi questo è quello che mi piace fare quando finisco un cluster, alla fine però. Ho già fatto un feeder, non so se avevamo registrato. Ne faccio ancora uno. Poi posso aumentare. Eh ragazzi comunque, essendo macchine nuove, è davvero difficile trovare subito il carico. Quindi comunque, anche se sono un avanzato, anche se già sono venuto qua. Questa per esempio è la prima volta che la provo. La Prime l'avevo provata l'ultima volta a febbraio, mi sa, che ero poi tra l'altro in pieno bulk, quindi le forze erano pure diverse. Ci vuole almeno, almeno almeno 15 giorni per capire come funzionano le macchine, capire con quale li trovi meglio. E soprattutto, cercare di capire più o meno i carichi, in modo da affrontare il set per come andrebbe fatto insomma. Allora adesso andiamo a fare il set allenante. Allora adesso andiamo a fare il set.